Quali sono i sei gradi di separazione che dividono Marcel Duchamp, il maestro francese del dadaismo e surrealismo, dalla multinazionale di mobili svedese Ikea? Primo grado. A partire dal 1923, Duchamp diradò progressivamente la sua produzione artistica e per dieci anni si occupò quasi esclusivamente di scacchi, diventando addirittura capitano della squadra olimpica francese. Secondo grado. Nel gioco degli scacchi ogni giocatore ha a disposizione un insieme di 16 pezzi. Ogni insieme consiste di sei tipi diversi di pezzi. Tra questi il più importante è il re. Terzo grado. Storicamente il re durante le cerimonie ufficiali porta la corona. La corona è il copricapo cerimoniale dei monarchi, simbolo di potere ed elevazione. Quarto grado. Il termine svedese per indicare la corona è Krona. L'attuale re della Svezia si chiama Karl XVI Gustav. Quinto grado. L'unione delle due parole Karl e Krona è Karl-Krona. Karlskrona è il nome di una città portuale svedese. Sesto grado. Karlskrona è anche il nome di una poltrona compresa nel catalogo Ikea. Grazie a tutti.